Questo programma è offerto da DeconoCampus Giovedì 23 maggio, buongiorno da Teleprima Benvenuti anche oggi alla nostra quotidiana rassegna stampa Come ogni mattina offerta da Tecnocampus Tanti fatti in primo piano anche in questa giornata In questo giovedì dove vediamo che le tensioni nel governo sono ancora alte Ma soprattutto la novità della giornata è che il decreto sicurezza E anche quello sulla famiglia sono stati rinviati La decisione infatti è stata quella di spostarli a dopo il voto di domenica Ormai voto imminente che forse cambierà un po' le situazioni Che riguardano la nostra Italia ma anche le gestioni politiche Ma questa è tutta un'ipotesi che comunque fanno da ogni parte Ma intanto noi lasciamo stare le ipotesi E vediamo direttamente quelli che sono i fatti più concreti E cominciamo subito a sfogliare le prime pagine quotidiane nazionali E oggi partiamo con il Corriere della Sera Il quotidiano di Via Solferino E vediamo infatti che in apertura sicurezza solo dopo il voto Il premier dal Quirinale nessuna censura preventiva E Giorgetti così non può andare avanti Rinviato il decreto Mattarella in campo incontra Conte e anche Salvini Infatti è stato rinviato Il premier Giuseppe Conte annuncia che tornerà al Consiglio dei Ministri Dopo il voto all'Europea Dal presidente Sergio Mattarella nessuna censura preventiva Dice il capo del governo salito al Quirinale E anche il vice premier Matteo Salvini ha visto il capo dello Stato Senza affiatamento non si può andare avanti Non si può vivere di stallo Commenta il sottosegretario leghista Giancarlo Giorgetti Risponde il vice premier Luigi Di Maio Ogni giorno c'è crisi di governo E non è del Movimento 5 Stelle E qualcuno la minaccia Oggi è toccato a Giorgetti Basta minacciare crisi di governo E basta fare la conta delle poltrone Si pensi un attimo al Paese E ancora vediamo il sottosegretario leghista E le tensioni presto verrà la grandine In giugno verrà la grandine I più deboli e i sangui saranno i primi a cadere E' questo che dice Giancarlo Giorgetti Non spiega se le sue parole si riferiscono all'Europa o all'Italia Il fatto è che il sottosegretario alla presidenza Sembra sempre più vedere nero Insomma non vede una dialettica efficace Non vede rapporti concreti E minaccia ovviamente una situazione Che sembra essere più necatombe E ancora la corsa a prendersi l'Europa La terra di conquista Infatti la corsa all'Africa E' quella fase fra gli anni 80 del XIX secolo E la prima guerra mondiale In cui le potenze europee sgomitarono l'una contro l'altra Per spartirsi il continente più debole La corsa all'Europa E' la stagione di cui potremmo vedere oggi i presagi Lo sgomitare delle grandi potenze del XXI secolo Nuove e vecchie Per spartirsi un continente un tempo grande E oggi solamente ricco una terra di conquistatori Che sta diventando in realtà Una vera e propria terra di conquista Insomma una metafora Ma soprattutto un paragone Di quelli che ci lasciano un po' la mano in bocca Ma comunque ormai siamo prossimi a queste elezioni 26 maggio una data che configureremo come una data storica Ma intanto continuiamo a vedere le prime pagine dei quotidiani E Confindustria e la politica Quelle spine nell'agenda delle imprese Nell'assemblea Confindustriale di ieri infatti Non resterà negli annali della storia politico-economica d'Italia E non certo per colpa di Vincenzo Boccia Che alla sua ultima assise da presidente Ha presentato un'ottima relazione E intanto nella parte centrale della pagina Una storia, l'incidente e poi solo il buio Ho vissuto mesi di silenzio Parla Michele Bravi Dopo lo shock era al volante Morì una donna Mesi di silenzio E ora sono in terapia E' difficile ricominciare a vivere Così racconta il cantante Michele Bravi Dopo lo shock per il tragico incidente In cui ha perso la vita una donna Lui era al volante Era novembre E aveva appena finito le prove di un concerto Insomma non si finisce mai E soprattutto negli incidenti Non c'è mai una sola parte lesa Ancora vediamo le altre notizie In primo piano Botte per sette giorni Ucciso a due anni dalla furia di papà Aveva due anni e cinque mesi Il piccolo Rome Il padre, venticinque anni L'ha ucciso a pugni e sverle Lo picchiava ogni giorno Da oltre una settimana Fumava ascisce Sfogava la sua rabbia sul piccolo Terzo di quattro figli E adesso racconta Non mi faceva dormire Insomma una vicenda di quelle Che ci lasciano senza fiato E soprattutto ci lasciano Credendo che il mondo Non sia quel posto tanto bello Che molto spesso diciamo che sia E ancora vediamo gli altri fatti In primo piano La verità Truffa il ministro della salute L'inchiesta clamorosa a Roma E infatti funzionario accusato Di aver distratto Quasi un milione e mezzo Di fondi pubblici Girandoli a se stesso E indagato assieme a due dirigenti E due direttori generali Per fregare i denari Sarebbero state falsificate Persino le firme di Giulia Grillo E ancora vediamo Nella parte centrale della pagina L'ospedale del Papa Che riceve in segreto Il diavolo Savini Insomma Quante notizie questa mattina Che ci mostrano Una realtà sempre più complessa Una vicenda sempre più irreale Soprattutto tra truffe Politica Sgravi Ma anche con paura Per quello che sarà Il nostro futuro Questo è quello che accade Ovviamente ogni giorno E ancora vediamo Che le altre notizie In primo piano Raccontano di fatti Sempre più avvincenti Non mi faceva dormire Questo è quello che raccontava Appunto il papà Del bimbo di due anni Un Roma che ha ammazzato Il figlio Bimbo massacrato a Milano Casa occupata Il padre è un croato Di origini rom Nato a Firenze E infatti Sembra sempre più Una vicenda Che ha dei contorni Sempre più irreali E sembra qualcosa Di indicibile E ancora E Confindustria O alla Cigelle Nel discorso d'addio Boccia infila Un accenno di patrimoniale E intanto il sindaco In manovra Le mosse di sala Con un occhio agli amici E uno al Movimento 5 Stelle E ancora nella parte bassa Della pagina Schumacher Come Lambert Va ucciso pure lui La domanda In evasa Del vescovo di Parigi Ovviamente Tante le polemiche Proprio su questo argomento Tante le polemiche Sulla fine Di una vita E tante le discussioni Che comunque Molto spesso Non portano Da nessuna parte E ancora vediamo Nella parte più bassa Di questa pagina Testi stupefacenti Se profumano di cannabis I libri Non vengono censurati E infatti Anche questo È quello Che viene raccontato Oggi Dopo quello Che è successo A Torino Per il Salone del Libro Adesso Ovviamente Tutto fa polemica E ancora vediamo Il fatto quotidiano Nella giornata di oggi Mattarella affida a Conte Infatti L'ultima mediazione Fra Di Maio e Salvini Che vuole abolire L'abuso d'ufficio Cioè il reato contestato A Fontana Che combinazione E intanto Vediamo all'interno Di questa prima pagina Partiamo dall'altro E dall'alto Exodus Il software Delle intercettazioni Pensate un po' Ideato da un black team Di hacker Procure spiate Guerra di dossier Che arriva fino Ai servizi segreti Napoli arrestati Amministratore E gestore della società Informatica calabrese E serve 80 terabyte Di dati sensibili Perquisite Tre aziende e clienti Indaga anche Roma E insomma Siamo veramente Sotto assedio Sotto controllo Ma quando diventano Sempre più eloquenti Queste vicende Ovviamente Ci troviamo In una situazione Sempre più complicata Ovviamente Dicevo proprio La situazione Che riguarda le procure Quando le procure Sono controllate Dall'esterno Diventa tutto Ingestibile E ancora vediamo Nella parte centrale Della pagina Eccoci qua Vediamo Le foto Di tanti candidati Ma La cosa importante È il titolo Dinosauri Riciclati E volta gabbana Ma soprattutto Sconsigli Per il voto europeo Due I 34 candidati Più impresentabili Per ragioni politiche Chi trasloca Da un partito All'altro Chi è incollato Alla poltrona Da vent'anni E li vediamo Eccoli qua E ancora Nella parte bassa Della pagina Parta Parla Pagnoncelli Salvini Fa l'errore di Renzi Alla fine Il troppo Stroppia E i dati Della guardia di finanza Si parla ancora Di corruzione 2018 Un colletto bianco Beccato Ogni 5 ore Ancora L'intervista Al PM Tartaglia Ripartire dalle parole Del boss Graviano Su Berlusconi Ed infine Il colloquio Con Custurica Qui il cinema è morto Io vado a girare In Cina Insomma Anche il cinema Sembra essere Ad un punto morto In Italia Tutto al momento Sembra essere fermo Almeno secondo Quanto raccontato Dal fatto quotidiano E vediamo libero In questa giornata Come ci presenta I fatti 5 stelle Mortifica l'autonomia Sfottuti 20 milioni di italiani La riforma regionalista Sarebbe pronta Però la banda Di Di Maio La blocca Per indispettire la Lega Un autogol Emiliani Lombardi Romagnoli E Veneti Presi in giro Volteranno le spalle E grillini Il numero 2 Leghista Giorgetti Intanto è stufo Degli alleati Non si va avanti Dice Mollo E ancora Via vai dal Marocco Rimpatri inutili Se gli immigrati Poi rientrano E nella parte centrale Boomerang economico E politico Il reddito di cittadinanza Non rende neanche Al 5 stelle E ancora Nella parte centrale Ancora una volta Si parla Delle lemosiniere Del Papa La luce è tornata Ma la bolletta Non è ancora pagata Sotto inchiesta Il cardinale Ormai definito Elettricista E lo vediamo Nell'immagine E nella parte bassa Della pagina Nella casa abusiva Ammazza di botte Il figlio di due anni Il dramma di Milano L'assassino croato Non riusciva a dormire L'ha ucciso E ancora nella parte bassa Della pagina Grandi direttori D'orchestra Morire sul podio Con bacchetta In mano Ancora Vediamo gli altri Fatti in primo piano Questa volta Spogliamo il giornale Nella parte alta Sanguisughe Pensione stangata Un voto per fermarli L'economista Cazzola Lancia l'allarme Toccheranno i soldi Di tutti Intanto Lega e 5 stelle Fanno a botte Sdrittano i decreti Sicurezza e famiglia L'avviso di italiani Salvini Mollali Sei ancora in tempo E poi la domanda Che dà anche una risposta Nell'editoriale di Sallusti Perché domenica Tutti alle urne E nella parte centrale Invece si cambia Proprio argomento Casillas e Carbonero Dal gossip al dramma Il coraggio di Iker e Sara Nella partita Contro la malattia E nella parte destra Della pagina Anche qui vediamo Milano Bimbo di due anni Ucciso a botte Dal padre Orco L'assassino aveva Problemi di droga E infine Nella parte più bassa Della pagina Delirio Onù Zittisce Siri Alexa Voci da donna E' vero e proprio Maschilismo Nel mirino Gli assistenti vocali Femminili Anche questo Rappresenta Quello che noi Ogni giorno Ci rendiamo Di cui ogni giorno Ci rendiamo Sempre più conto Qualsiasi cosa Suscita Le polemiche Le polemiche E soprattutto Suscita indignazioni Troppo spesso Magari anche Inutili E ancora Vediamo il tempo Stupro nella disco Della Roma Bene 21enne denuncia Una violenza di gruppo Fuori a Factory Polizia a caccia Di tre ragazzi Un mese fa In notro locale Di Ponte Mirvio Era stato chiuso Dalla questura Per ordine pubblico Ed ancora in Europa Per combattere La mala giustizia Mentre Silvio Di nuovo Mi preferiscono Barabba E nella parte più bassa Casa Monica Ciricasca Arrestato per estorsione Preso mentre chiedeva Il pizzo Con un compare A una concessionaria Di automobili Al Tuscolano E nella parte Sempre più bassa Tra gli assurdi Il portavoce Di De Vito Erano idonei al concorso Cancellati Ma poi riammessi E ancora Vediamo gli altri fatti In primo piano Questa volta Sfogliamo Repubblica I respingimenti Di Mattarella Il presidente della Repubblica Stoppa infatti Il decreto sicurezza Dopo l'incontro Con Conte e Salvini Il provvedimento Rinviato a dopo Le elezioni E Giorgetti Se le cose non cambiano Mi dimetto Intervista Holland Dalle urne Può uscire Un'Europa bloccata Mentre nell'editoriale Di Ezio Mauro Il rischio Della postdemocrazia Stiamo attenti Proprio A quello che accade Nella parte centrale Ecco qua l'inchiesta Vediamo Matteo Salvini Circondato Dalle persone E soprattutto Mentre gli viene scattato Un selfie Identikit di chi vota Lega Al nord Alla fiducia E a tempo I vecchi Federissimi Vogliono l'autonomia E noi fan del Capitano Sono al sud E aumentano le donne Come possiamo vedere Nella foto Intanto l'idea è reale E percepita La politica Così come la temperatura Io proprio su questo Mi vorrei soffermare Questa mattina La politica In realtà Come viene percepita Da tutti Molto spesso viene vista Come qualcosa Che non ci riguarda Qualcosa che è relativa Solamente alle sfere alte Qualcosa di cui Poi dobbiamo Rendere conto O renderci conto Ma soprattutto È qualcosa Che non ci riguarda E questa è la vicenda Più brutta Perché politica È tutto ciò Che attiene La nostra sfera sociale È tutto ciò Che riguarda noi In prima persona Ma molto spesso Nel nostro Non voler sapere Facciamo e commettiamo L'errore Di estranearci Da quelli Che sono i fatti In primo piano Ma veramente Dovremmo ricominciare A prendere in mano La situazione E soprattutto Fare in modo Che questa politica Diventi un affare Che sia davvero nostro E ancora vediamo Il mattino La sua prima pagina Vediamo nella parte centrale Il governo è appeso al voto Conte e Salvini Alquirinale Giorgetti Chi vince Detta l'agenda Decreti sicurezza E famiglie Arrivati Mattarella Preoccupato per l'eliti Chiede garanzie In vista della manovra E intanto Il caso del Rosario La sconfitta politica Di chi usa la religione Viene raccontata Da Alessandro Campi Usare infatti Simboli confessionali Per dare corpo Alla propria Propaganda politica Questo è quello Che nei giorni scorsi Ha limitato Proprio La politica E soprattutto Ha creato Forti Frizioni Tra la Chiesa Cattolica E il nostro governo E infatti Vediamo che la verità È che si accusa oggi Salvini Di una cosa Che la Lega Sin dalla sua nascita Ha sempre fatto E in modo cosciente Tra i movimenti politici Cresciuti Sulle rovine Sulle rovine Della prima repubblica Quello leghista È infatti L'unico Che abbia attinto A piene mani Dall'immaginario Mitico Religioso Per quanto La forma grossolana È spesso bizzarra Per costruirci intorno Un efficace Sistema ideologico Insomma Quello che dice In questo editoriale Campi È di cosa Ci stiamo Stupendo Oggi Forse finora Non abbiamo visto Ma la realtà È proprio questa E ancora domani Le dimissioni La congiura dei conservatori Che porta la May Al Capolinia E ancora Nella parte centrale Della pagina Eccoci qua Allo sfogo Vediamo che cosa Dice Sarri Devo capire Se sono contenti di me Il Chelsea E le sirene Juve Tutti i tormenti Di mister Sarri Che cosa sarà Della sua vita Che cosa sarà Delle squadre Che adesso Della squadra Che sta allenando adesso Ma che cosa sarà Del suo futuro Lo scopriremo Nei prossimi giorni Ancora Napoli Il virus spia Che conosce I segreti Di mille intercettati Arrestati Due superconsulenti Delle procure italiane Nell'archivio Anche i dati Delle inchieste Per mafia E infine Nella parte bassa L'orrore a Milano Uccide di botta Il figlio di due anni Non dormivo più E nella parte destra Della pagina Il quiz del mattino La domanda è questa Europei Ma sapete Per cosa votate? Ecco Questo è l'interrogativo In primo piano oggi Che vi invito Proprio ad esaminare E soprattutto Ad andare a valutare Voi sapete Per che cosa andrete a votare Domenica E soprattutto Andrete a votare a domenica Io mi auguro di sì Anche perché è un nostro diritto Che va esercitato Sempre e comunque Ancora vediamo Gli altri fatti In primo piano Vediamo il manifesto Di quest'oggi Salvini spacca Il 23 maggio Palermo Scontro istituzionale Nell'anniversario Della strage Di Capaci E ancora Vediamo In quella voragine Una parte di stato E il falcone E la testa Del serpente Tutto il ricordo Di una vicenda Che ha lasciato La mare in bocca A tutti noi E nella parte centrale Della pagina Invece vediamo Come titola Questa mattina Il manifesto Ed eccoci qua Bocciati Proprio tutti E infatti Nell'infocata vigilia Del voto europeo Con i leghisti E ritirata Sul decreto Sicurezza bis Frenato dal colle All'assemblea Di Confindustria Selvini E Desaparecido In prima fila Conte e 5 stelle Boccia Conclude in mandato Fotografando un paese Fermo Citando Bergoglio E le frontiere Aperte Insomma Adesso Veramente Tutto diventa Possibile E tutto diventa Il clone Di quelle Che sono Le altre realtà E vediamo Ancora gli altri Fatti in primo piano Sulle testate nazionali Questa volta Però andiamo Ad esaminare I fatti sportivi Con il Corriere Dello sport E vediamo Anche su questa prima pagina Sarri Brexit Avverte il Chelsea E apre alla Juve L'interesse dei club italiani Fa piacere Dopo la filare di Bacu Vedrò i dirigenti E capirò Se sono contenti di me Ma ora non voglio Parlare del futuro Penso solo a vincere L'Europa League E intanto Nella parte centrale Gian Paolo esclusivo Maurizio Rivoluzionerà Il gioco della Juve E Gattuso Invece Eccolo qua Maldini Scarica Gattuso Nel Milan La tensione è sempre alta Il non Ti non vede un futuro Con il ringhio Lo devo valutare In modo freddo E ancora Nella parte bassa Della pagina Devono rifare La Ferrari E il Constanzia E l'ok L'extra budget Servono profonde modifiche Alla monoposto E intanto A Monte Carlo Il grande circo Si prepara a rendere Omaggio proprio A Niki Lauda E ancora Un'altra pagina sportiva La vediamo Da tutto sport Ed eccoci qua Nella parte alta Gallo Dai la fascia Amoretti Commovente L'addio del difensore Che resterà nel club Lascio un toro Da Europa L'appello Dei tifosi Capitano Con la Lazio Mentre nella parte Centrale Della pagina Eccolo qua Svolta Juve Si delinea Lo scenario Del dopo Allegri Inzaghi Obiettivo del Milan Per sostituire Gattuso È l'opzione B in pole C'è Sarri Atteso Dalla finale D'Europa League E Gerido Con il Chelsea Se mi giudicano Per una partita Vado via Subito E insomma Vedremo che cosa Accadrà a Sarri Vedremo se nel suo futuro Ci sarà la Juve Oppure no Ma tutto questo Ovviamente Ci lascia Degli scenari Di quelli Che possiamo Discutere Ovviamente Ogni giorno E comunque Ci fa Sognare E per il momento Noi non sogniamo Ma ci fermiamo Un attimo Vi do la pubblicità Ritorniamo subito dopo Quindi non andate via Perché andiamo a vedere Proprio i fatti Della regione Campania E andiamo a vedere Quello che è successo Nelle giornate scorse E soprattutto ieri Buona giornata Proprio i fatti Proprio i fatti All'incrocio tra Caserta e il futuro È nato Tecnocampus Un centro direzionale moderno Frutto di un ambizioso progetto Di riqualificazione industriale Che ha messo la qualità del lavoro Al primo posto Tecnocampus Il nuovo centro direzionale di Caserta È collegato direttamente All'A30 Caserta Salerno E dista pochi minuti Dal centro di Caserta Tecnocampus SRL Viale Lincoln Zona industriale Ex San Goben Caserta Tecnocampus La soluzione Al centro Ed eccoci ancora una volta in studio Vi ricordo che oggi è giovedì 23 maggio Siamo ancora qui pronti con la rassegna stampa Abbiamo appena visto quelli che sono i fatti a livello nazionale Adesso andiamo a vedere tutti quelli che ci riguardano più da vicino Quindi i fatti locali, i fatti della regione Campania Di Caserta, della sua provincia Ma partiamo subito sfogliando le prime pagine dei quotidiani online E vediamo da Napoli che cosa arriva Infatti i rifiuti Bassolino esce definitivamente dal processo La Corte d'Appello boccia al ricorso del Procuratore Generale L'ex sindaco di Napoli Aveva fiducia nella giustizia Dice Infatti l'ex sindaco di Napoli Ed ex governatore della Campania Antonio Bassolino Esce definitivamente dal processo Su presunte irregolarità nella gestione regionale del ciclo rifiuti Pur essendo i reati ipotizzati ormai prescritti I giudici del Tribunale di Napoli si erano espressi nel merito Con una sentenza di piena assoluzione Poi la Procura aveva fatto appello Per trasformare l'assoluzione di merito In assoluzione per prescrizione Nei confronti di Bassolino e di altri 26 indagati Oggi la Corte d'Appello Ha dichiarato inammissibile l'impugnazione del PM Ed ha confermato la sentenza di primo grado E infatti la Corte d'Appello ha dichiarato inammissibile L'appello del PM nel processo rifiuti Così confermando il pieno proscioglimento di Bassolino Ancora vediamo le altre notizie in primo piano Sempre da questo quotidiano che è Repubblica E vediamo ancora notizie in relazione ai fatti di questi giorni La professoressa sospesa a Palermo La scuola in piazza a Napoli Noi liberi di insegnare basta censure Vediamo qualche immagine di questa manifestazione Tutti col bavaglio proprio perché il timore è quello di forti censure Un tempo si parlava di una censura esistente Oggi invece sembra che quella che viene definita censura Non esista ma è più forte di quanto in realtà si possa credere Io penso perciò dissento Vediamo proprio le immagini di questa manifestazione Eccoli qua Ancora vediamo le altre persone Noi cultura tu solo paura E insomma veramente tanto il dissenso Indidiamo anche le sigle sindacali Se la libertà di espressione è un crimine Sospendeteci tutti Ovviamente non si possono fare simili congetture Ma soprattutto non si può sospendere qualcuno Semplicemente perché sta facendo il proprio lavoro E infatti in piazza del prebiscito a Napoli Per il presidio di solidarietà La professoressa palermitana Sospesa a servizio per il video dei suoi studenti Ieri pomeriggio si sono trovati Centinaia di rappresentanti del mondo della scuola e dell'università Slogan, qualche urla, tanti cartelli Basta censura e momento di dissenso Moltissimi professori, dirigenti scolastici Alcuni docenti universitari Gruppi di studenti Al Margherita di Savoia come in gran parte delle scuole di Napoli Due giorni fa sono stati letti gli articoli della Costituzione Che fanno riferimento alla libertà di espressione Alla libertà di insegnamento E spesso sono stati proprio gli studenti A leggere le parole scritte nella carta costituzionale Presi dei docenti del Fonseca Hanno firmato un documento in proposito E il dirigente è anche personalmente scritto al ministro Bussetti Insegniamo agli studenti cittadinanza e costituzione E poi gli impediamo di esprimere il pensiero Questa è la domanda E questo è quello che in realtà Non dovrebbe mai accadere Ciascuno dovrebbe essere libero Di esprimere il proprio pensiero Ovviamente senza però Farsi che quel pensiero diventi Manifesto in maniera aggressiva Ancora vediamo gli altri fatti in primo piano Si parla ancora di Notizie che arrivano dalla Regione Campania Si parla ancora di Repubblica Ma questa volta La notizia ci lascia proprio A bocca aperta perché è una di quelle Che ci fanno veramente Ritornare indietro nel tempo Infatti a Salerno Una donna operata al cuore I medici trovano una protesi cardiaca Impiantata da Christian Barnard Gli specialisti del ruggi Straordinaria durata della valvola Infatti vediamo un pezzo di storia Della medicina mondiale Passato per le mani Delle cardiochirurghi dell'azienda Ospedaliera universitaria San Giovanni di Dio Ruggi d'Aragona di Salerno I medici si sono trovati A riprese con una protesi cardiaca Impiantata da Christian Barnard Autore del primo Trapianto di cuore Della storia dell'umanità Un intervento che sembrava Normalissimo Quello eseguito la scorsa settimana Dall'equip di Severino Iesu Che con i suoi colleghi Ha provato una forte emozione Aveva solo 5 anni La signora che adesso ha 60 anni Stesa sul tavolo operatorio Dell'ospedale Sanitano Quando scoprì di avere un serio problema Alla valvola mitrale I genitori si informarono E dopo un'attesa di 5 anni Arrivarono a chiedere al fratello Un 25enne Di prendersi cura di lei Li fecero andare all'altro capo del mondo Dove non comprendevano nemmeno una parola La piccola con sé Aveva solo il fascicolo medico Così lontana da casa La bimba che ormai aveva compiuto 10 anni Fu sottoposta a un intervento al cuore Che all'epoca aveva una mortalità Non trascurabile Passò 4 mesi nel centro Grotechkur di Città del Capo Seguita con cura Dal cardiochirurgo Che aveva eseguito un intervento Cristian Barnard Che solo due anni prima Aveva effettuato Il primo trapianto di cuore al mondo Gli specialisti del Ruggi Hanno potuto notare La straordinaria durata Della valvola A documentazione Di altra valvola Pensate un po' Durata la bellezza Di 50 anni Scrivono in una nota Prima di intervenire Sulla paziente operata Da un chirurgo Che ha segnato Pagine fondamentali Del progresso scientifico Insomma Oggi viviamo Proprio nell'era Del progresso In cui la medicina Sembra aver fatto Passi da giganti E in cui Grazie agli interventi Soprattutto al cuore Soprattutto alle valvole Si riesce a sopravvivere Per tanto tempo Ma una durata Così lunga Di una valvola Ancora Non c'è mai stata E quindi Questa scoperta Rappresenta qualcosa Di incredibilmente Indiscutibile Ma soprattutto Di straordinario Ancora vediamo Le altre notizie Passiamo alla cronaca Napoli 75 anni Imbavagliata E uccisa in casa Due fermi Un uomo rumeno E una donna italiana Sono accusati infatti Di concorso In omicidio e rapina Ricercate altre persone Coinvolte nel delitto Due persone sono state fermate Nell'ambito delle indagini Sull'omicidio Di Stefanina Fregliasso 75 anni Trovata morte in casa Legata e imbavagliata Nel quartiere Gianturco a Napoli Sono stati sottoposti A fermo Un rumeno E un'italiana Per concorso In omicidio e rapina E i fermi Sono stati eseguiti Dai carabinieri Del nucleo investigativo Provinciale di Napoli E del comando Di Poggio Reale Secondo quanto appreso La donna Avrebbe avuto il ruolo Di agevolatrice Dell'ingresso Dei rapinatori Nell'abitazione Della donna Mentre il rumeno Era incaricato Di aprire la cassaforte Le indagini Sono state coordinate Da procuratore aggiunto Rosa Volpe E dal PM Luciano D'Angelo Della procura di Napoli Ancora vediamo Gli altri fatti In primo piano Ci spostiamo Su il mattino Andiamo a vedere un'altra notizia Straordinaria Ed eccoci qua Diabete Creata all'insulina intelligente Eviterà ipoglicemie Ed iperglicemie E infatti Insulina Questo è il nome Con cui è stata battezzata Un'insulina intelligente Che previene le ipoglicemie Si tratta di una versione Modificata dell'ormone In grado di calibrare In modo preciso La quantità di zucchero Assorbito dai tessuti Così da abbassare la glicemia Fino a livelli normali E non oltre Il lavoro che ha portato A questo risultato È stato condotto Dai ricercatori Dell'università Di Los Angeles Ed è stato pubblicato Sulla rivista scientifica PNAS Insomma Ancora una svolta In campo medico Una rivoluzione Proprio in termini Pratici E adesso Si va avanti Sempre con la tecnologia E soprattutto Con quelle che sono Le innovazioni Per quanto riguarda La salute umana E ancora Vediamo le altre notizie In primo piano Mare bianco Arriva a Fiorita Spuntano due scarichi pirata Ecco che inquina Insomma Si passa dai fatti belli Che raccontano Una medicina Fatta di tante cose innovative Soprattutto di progressi E poi si ritorna A quella che purtroppo È la nostra realtà Fatta da chi inquina Senza rendersi conto Che tutto ciò Che opera In maniera negativa Per l'ambiente Lo sta facendo Anche per se stesso Comunque Vediamo infatti Che nuove luci Sul mistero del mare bianco Di Riva Fiorita E si scoprono Martedì in tarda mattinata Circa due ore prima Che la macchia chiara Invadesse il porticciolo Di Posillipo Dei sub Si erano immersi In quella stessa fetta d'acqua Alla ricerca di scarichi abusivi E con l'obiettivo Di organizzare Una polizia Del fondale Abbiamo trovato Due tubi Racconta uno di loro Carmine Meloro Sub presidente Della commissione ambiente Della quarta municipalità Proprio nell'area Della macchia bianca Qualche ora prima Che l'acqua Cambiasse colore Stando alla nostra esperienza In mare Su una di quelle due condotte Dovrebbe esserci appunto Un innesto abusivo E ancora continuiamo A vedere i fatti Di cronaca Si parla ancora Di un ospedale Napoli Ospedale senza lenzuola Questa volta E che cosa accade Il cardarelli Va in tilta E la regione denuncia Ed eccoci qua Poche lenzuola Negli ospedali di Napoli La regione Campania Direzione Salute Presenterà un esposto Denuncia Per interruzione Di pubblico servizio In merito alla protesta Di alcuni lavoratori Dell'American Laundry Che hanno bloccato Per un giorno La consegna della biancheria In alcuni ospedali A darne notizia La nota della regione Che precisa Non si sono registrate Emergenze Le direzioni Delle strutture Interessate Si sono immediatamente Attivate E hanno gestito In maniera efficace Le diverse situazioni Venutesi a creare A cominciare Dal cardarelli Si sono invece Immediatamente diffuse Notizie talmente false Con aggressioni mediate Che continuano a nota Volte Ancora una volta A screditare A livello nazionale La sanità campana E il lavoro Che si sta facendo La notizia Non è che Negli ospedali Campani Mancano le lenzuola Ma che una ditta Colpita Da un'interdittiva Della prefettura Ha messo in campo Una protesta Irresponsabile Con azioni Che appaiono Al di fuori Di qualsiasi norma Ancora Continuiamo a sfogliare Le prime pagine Di quotidiani online Vediamo le altre notizie In primo piano Vitalizi D'oro In regione campana I tagli Si fermano Al 30% Ci siamo Forse Anche se non è Certo semplice Pure oggi Dopo lunghi Tira e molla In commissione statuto Del consiglio regionale Arriva la proposta Di legge Per la rideterminazione Degli assegni diretti Indiretti E di reversibilità Il taglio Delle famose Pensioni d'oro Tanto per capirci Proposta di legge Filmata da tutti i partiti Di maggioranza E opposizione Con la sola esclusione Del verde Francesco Borelli Che oggi presenterà Una sua proposta Ancora più stringente Sulla montare Degli assegni E ancora Vediamo gli altri fatti Che arrivano da Napoli Stop ai furbetti Del ticket Assalto Agli uffici Dell'Asda E infatti Eccolo qua Non pagavano il ticket Perché senti In base al reddito Denunciato in autocertificazione Ora dovranno rimborsare Alla sanità pubblica Le cifre Risparmiate Ingiustamente Negli anni Controlli incrociati Da parte delle aziende sanitarie Napoli Nord E tre sud E agenzia delle entrate Per sanare i furbetti Del ticket Insomma Una svolta Anche in questo ambito E ancora Vediamo da Caserta Le notizie Che arrivano Da Caserta Attraverso Caserta News E a Casal di Principe Imprenditore accusato Da schiavone Sono una sua vittima Corvino replica Il figlio di Sandocan Villa e i terreni Per pagare il capo clan E infatti Eccolo qua Io vittima di Nicola schiavone Così si è difeso L'imprenditore Giuseppe Corvino 64 anni Di Casal di Principe Sotto processo Con l'accusa di Camorra Corvino Nel corso dell'udienza Celebrata Dinanzi al collegio Preseduto Da giudice Giovanni Caparco Del tribunale Santa Maria Capovetre Ha reso spontanee Dichiarazioni Per chiarire La sua posizione Anche alla luce Delle dichiarazioni Del rampollo Di casa Sandocan Oggi collaboratore Di giustizia In particolare L'imprenditore Difeso dall'avvocato Fabio della Corte Ha spiegato Come Nicola schiavone Si fosse inserito Nell'affare Della realizzazione Di alcuni appartamenti In provincia di Modena Nella frazione San Martino Secchia Di San Prospero Su un terreno Acquistato da Corvino E dai suoi familiari E sul quale Già erano in atto Appunto i lavori Ancora vediamo Le altre notizie Che arrivano da Caserta Brutte notizie Per lo Sprar di Caserta Infatti Salvini blocca I fondi Per lo Sprar Il centro sociale A questo punto Torna in piazza E gli attivisti Dell'ex Canapificio Annunciano la protesta Prassi Illegittima Dal Viminale Denunciano Ed eccoli qua Mentre stanno Facendo una riunione Il ministro dell'interno Matteo Salvini Blocca i finanziamenti Per il progetto Sprar di Caserta E questa la denuncia Che arriva Degli attivisti Del centro sociale Ex Canapificio Che annunciano Una manifestazione Di piazza Fissata proprio per domani Venerdì 24 maggio Proprio quando L'associazione Avrebbe dovuto Prendere possesso Anche se in via provvisoria Di un altro capannone Sempre nel plesso Industriale Di Viale Illittico Dopo l'accordo Con Comune Regione Campania Per la prosecuzione Delle attività sociali E di volontariato Insomma Dopo il sequestro Lo sblocco trovato Con il municipio Palazzo Santa Lucia Adesso Per il centro sociale Arriva una nuova mannaia Il Viminale Non sta erogando I finanziamenti Previsti al progetto Di accoglienza Sprar di Caserta Senza alcun motivo E a fronte di nessuna Inadiempienza progettuale Si legge in una nota Dell'ex Canapificio Che ritiene La sospensione Sia una prassi Legittima Un attacco all'intera Comunità casertana Per il quale Il progetto di accoglienza Sprar Nato nel 2007 In funzione Fino al 31 dicembre 2019 Rappresenta Un concreto esempio Di inclusione sociale E riqualificazione Del territorio Tutela di diritti Per tutti Italiani Ed anche immigrati E infine Vediamo Un'ultima notizia Che arriva sempre Da questo quotidiano online Minacce Sciocca Ad una candidata Ora partono Le denunce Branco la sostiene Hanno i giorni contati Li scopriremo E vediamo infatti Che cosa è accaduto Si accende negli ultimi giorni La campagna elettorale Di capo Con un candidato sindaco Che annuncia La presentazione Di una denuncia All'autorità giudiziaria Per le accuse Venenuse Che gli sono state lanciate Durante la campagna elettorale A quattro giorni Dal voto di domenica Il candidato Centro-sinistra Luca Branco Ha annunciato La decisione Di voler presentare Una denuncia Alle autorità competenti Abbiamo scelto Di condurre Una campagna elettorale Pulita Non aggressiva Né offensiva Scritto su Facebook Senza urlare Contro i nostri concittadini Impegnati in altre liste O coalizioni elettorali Per questo motivo Alla luce Di quanto accaduto Negli ultimi giorni Condanniamo fermamente Ogni tipo di violenza Offesa Minaccia Discriminazione razziale Sessista E di religione Abbiamo accolto Tutto quanto prodotto In questi giorni Stiamo provvedendo A denunciare L'accaduto Alle autorità competenti Pagine E account fake E chi si nasconde dietro Hanno i giorni contati Chi sceglie Sostenere azioni Di questo tipo Compie Un'azione Negativa E contraria A Capua E ai suoi cittadini E con questa notizia Per oggi La rassegna stampa Termina qui Vi ringrazio Per aver scelto Teleprima E per essere stati con noi Vi invito a continuare A seguire i programmi Di Teleprima E soprattutto Vi do appuntamento A domani Ringrazio ancora una volta Tecnocampus Che come ogni mattina Ci offre la possibilità Di fare informazione E a voi tutti L'augurio Di una meravigliosa giornata Grazie a tutti Questo programma È stato offerto Da Tecnocampus Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti